Paola siamo nel cuore di Padova, qui il trecentesco palazzo Zabbarella affrescato nell'ottocento da Francesco Hayez celebra i dieci anni della sua attività espositiva con una mostra dedicata al fiorentino Telemaco Signorini. Il restauro di palazzo Zabbarella ha avuto l'obiettivo di valorizzare un luogo importante per la città di Padova che è questo palazzo antichissimo. I grandi obiettivi che abbiamo percorso per il palazzo Zabbarella è un'indagine sul valore dell'ottocento italiano. Signorini è uno dei rari casi d'artista costretto a studiare arte dalla propria famiglia. Figlio del pittore Giovanni Signorini, Telemaco avrebbe infatti preferito gli studi letterari ma dovette obbedire alla volontà del padre e studiare pittura. Intellettuale colto e raffinato fin da molto giovane Telemaco manifesta la capacità di critico oltre che di pittore attento non solo a ciò che accadeva nel mondo dell'arte ma anche nella società. Signorini sin dagli inizi, i primi anni firentini, ha frequentato gli ambienti che contavano, soprattutto ha frequentato gli ambienti inglesi che erano praticamente vivaci a Firenze e da questo gli è venuto un impulso quindi a vestire bene, a comportarsi da dendi, aiutato anche dall'aspetto fisico che è un po' diverso dal periodo di altri macchiaioli, poteva sembrare un inglese o un tedesco a seconda delle occasioni, per esempio quando è andato a combattere nel 59 fu scambiato dai soldati italiani addirittura come una spia austriaca. Ma Signorini è anche uomo di mondo, tra i pochi macchiaioli ad aver successo in vita viaggia molto tra l'Inghilterra e la Francia entrando in contatto con la più raffinata elite culturale internazionale stringendo amicizia con i protagonisti della pittura europea da Degas a Boldini. Padova, Telemaco Signorini e la pittura in Europa Pascoli a Castiglioncello del 1861 è una delle opere emblematiche dell'esperienza macchiaiola Lega, Fattori e Signorini si ritrovano nella tenuta del loro sostenitore e critico Diego Martelli nella solitudine dell'alta Maremma nasce una pittura rivoluzionaria La sala delle agitate dell'ospedale di San Bonifazio fece scandalo per la drammaticità del tema affrontato e per l'audace taglio prospettico che tanto entusiasmò Degas La malattia, la guerra, il ghetto, la fame, queste le tematiche ricorrenti nella celebre alzaia del 1864 giovani uomini trascinano spezzati dallo sforzo un'imbarcazione controcorrente diventando metafora della fatica del vivere Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!